Poi invece la musica sarà comandata, sarà comandata, sarà diretta dal comandante, tipo Titanic, tipo quella barca che c'era il comandante Ginger che voleva proporre la musica elettronica di una noce di verano, e la musica c'è lo cavallero che che arriva là sarà 4 della mattina, buono, este è un momento speciale. Mister Ginger, la musica elettronica, quella cosa che ti fa viaggiare, ti piace viaggiare, you wanna travel baby, you wanna take one shuttle for travel overnight, you wanna travel baby. Mister Ginger, la musica elettronica, 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 la musica el No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no mi raccomando non vi fate i ditalini è vietato masturbarsi prima delle 5 della maniera leccati il dito per favore il Alla prossima 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 La pancina di Franchino Alla prossima 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 Alla prossima